guarda non lo so mi alzo in piedi e ti faccio no 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 ho i bandaloni molto attillati la tana del frerito ciao preterigno allora vedo già la prima ospite che è collegata diciamo che è una ragazza molto particolare è una ragazza che è venuta in live da me svariate volte lei è una creatrice di contenuti anche su allifans speriamo non mi conosce no no non so se ti conosce o non ti conosce una bellissima ragazza bionda tra l'altro è bionda diciamo che è grande sostenitrice del poliamorosismo ah veramente ok d'accordo è poliamorosista quindi è poliamorosa quella che gli piace tutto tutti no 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 poliamorosa nel senso che se sta con una persona non è monogama in teoria ciao cioè che fa sesso in varie posizioni che significa adesso se lo dirà lei andiamo benvenuto a baby bunny buonasera ciao baby baby bunny ciao come stai come stai tutto bene grazie tu bene 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 grandissima piacere 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 lei fa anche porno lei fa anche porno mi chiamo Matteo e vabbè greenbaud è solido mettere in imbarazzo le persone qua sulla trasmissione lei fa porno vabbè con me non ci riesci quindi ah con te non ci riesci ha fatto un video dove sforbicia di brutto penso che volesse più mettere in imbarazzo te che me lo sai dici io direi se sforbicia e vabbè io perché di solito allora io stavo parlando con greenbaud no per quanto riguarda la mia tipa ideale no la mia tipa ideale deve essere bionda e occhi azzurri io gli occhi azzurri non ce l'ho però però sono le unghie azzurri mi piacciono mi piacciono infatti Matteo mi senti se mi senti grazie mi seguo vabbè penso che puoi entrare non c'è bisogno che ci lasci da solo no 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 ho chiesto io di lasciarsi da solo ma io l'ho chiesto no no io l'ho chiesto io di lasciarci da soli vuoi rimanere solo con me oh ma se me lo metti così sotto sto punto di vista come vuoi quando vuoi comunque io per caso te sei baby bunny hai c'è scritto come te chiami aspetta baby bunny 2k baby bunny 2k 2k no ma sei quella che fa è quella che cosa che sforbigia no ogni tanto ah sì sì no ho visto è una cosa molto interessante adesso devi diventare un arrapatone devi cominciare a fare scusami sono proprio duro scusami mamma mia non ci posso credere guarda veramente veramente perché cosa guarda non lo so guarda mi alzo in piedi te faccio no 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 ho i pantaloni ho i pantaloni molto attillati no no che schifo no oh amico ma si vede il pisellone dai vai tranquilla ho mutante e pantaloni ho mutante e pantaloni si vede la punta però tranquilla se magari sei abituata a dimensioni molto più grandi io purtroppo mi dispiace mi dispiace dirtelo ma mi dispiace molto bene da qua quindi esatto esatto però a riposo magari un giorno a riposo perché quando mi fido ah no ma è importante non sulla parola però eh non mi fido sulla parola chiedi dire com'è l'esperienza pornografica com'è come cioè l'esperienza pornografica com'è ma in realtà allora io cioè lavoro per me stessa non lavoro per case di produzione o cose del genere anch'io porco di non estemmia per me è una vita differente rispetto ad una pornattrice professionale mi prego e io la vivo serenamente è un lavoro a 360 gradi ognuno fa quel che può eh certo ognuno fa quello che può eh sì ma dove abiti eh non si dice io so di Roma ah di Roma di Roma però mi sono trasferita al nord al nord ma e come mai cioè tu quindi faresti sesso con altre persone che sei fidanzata quindi allora perché mi diceva Grimbaud che te tipo no che te cioè nel senso che mi petteva in chiamata con una che era Poligamona Poligama Poligama Poliamorosa Poliamorosa che significa poliamorosa vabbè io non ho una relazione poliamorosa cioè solitamente la relazione Poliamorosa è quando più di due persone stanno insieme cioè non è più una coppia ma sono solitamente in tre sì più o meno cioè io non ho problemi ad avere un'altra persona nonostante io sia fidanzata ma sei fidanzata? ho un ragazzo facciamo cose insieme lui fa cose con altre persone faccio cose con altre persone e non ti dà fastidio? no come mai? se c'è fiducia al cento per cento e si tratta solo di attrazione fisica perché dovrei essere geloso hai attrazione fisica verso di me? c'è un conto è quando si tratta di attrazione fisica verso di me? eh non lo so devo devo vedere meglio fai la preziosa un pochino dai sembri un imbarazzo sei diventato rosa no no sono le luci sono le luci un imbarazzo tranquilla tranquilla non sono un imbarazzo chiedi quali sono le sue perversioni più sono un po' diciamo che mi si blocca la gola però quali sono le tue perversioni preferite? ma in realtà io adoro il sesso normale non non amo strafare con cose particolari sforbiciate? sì quelle mi piacciono molto ok devo dire io sono sbronzo da una vita io sono sbronzo da una vita ah sì? sì io ho un problema con l'alcol e tu invece dimmi un po' quali sono le tue le tue fantasie sessuali quelle proprio più che ti prendono eh riuscire a non pagare alla fine allora ehm riuscire a non pagare alla fine non sei serio eh sì vabbè ma che c'è di male cioè per dirti io ci sono stata cioè ho fatto anche quel tipo dai puttanieri? no 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 dalle ragazze cioè hai fatto tu il servizio? no no io ho pagato no a te ho ah tu hai pagato? sì ah tu hai pagato e come è stato? stai guidando dalla puttana non lo so un'esperienza ah un'esperienza è così che c'è no io non ho mai pagato si toglie gli isfizzi era una cosa che volevo fare l'ho fatto e è stato divertente sai che mi è successo a me una volta? io sono andato una volta da queste ragazze no perché sai com'è quando sono singolo io di solito no ho soffrito di questo servizio che diciamo sono andato sono entrato dentro casa di questa ragazza e poi sono andato via perché era tutta zozza sporca c'era tutto tutta porvele tutto zozzo tutte non so sarà che magari so io che ho trovato una una cosa questo qua è amico tu vero? sì buonasera Rubino ciao come stai? tutto a posto io sono una bomba mi sono andato a far capirla la barba ti vedo che sei bene? eh sì 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 sto so bello Matteo chiediti se hanno mai fatto sesso loro due loro due chiediti Robè senti ma voi due l'avete mai consumato? dai cazzi no ma perché te insisti insisti per favore insisti quindi ma pure aspetta io so riconoscere il linguaggio del corpo quindi significa che avete scopato dai siate sinceri chi direi chi direi se fosse perché lo dobbiamo dire chi era lei chi era lei ma non c'è niente di male no? esatto nella vita cosa hai trovato cose private cose private ma che cose private? cosa hai trovato di attrazione verso Rubino? ma no vabbè tutto ovviamente tutto come tutto? baby c'è un bel culo grazie Rubi no è vero io non l'ho mai visto io sì male ti ho visto una volta posso vado un attimo a recuperare un attimo eh sì sì baby bunny 2k recupera recupera però sai che c'è voglio dire una cosa perché certe volte tu vedi magari le foto no dico pure ma la chat voi vedete le foto le video e alcune si ritoccano invece pure dal vivo cioè è proprio quello ah sì è vero io ciao ciao tutto bene ciao ragazzi oddio Matteo ma che cosa stai facendo la madonna ma che espressione è non ho mai visto due chiappe così non ho mai visto giuro vabbè è un culo eh è un culo però bello insomma Matteo anche un po' di contegno sì sì scusami hai due natiche veramente fantastiche ok grazie si sta comunque un complimento alla fine l'hai letto un po' di maniera arrivo al brother mi manca stare da solo in mezzo al mare pure quando è mosso prendi una barca per starci con me voglio stare in mezzo al mare